ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco til soluzione a cosa serve til soluzione a un parafarmaco appartenente alla categoria degli saponi per l'igiene intima è commercializzato in italia dall'azienda amnol chimica biologica srl sede legale ed amministrativa informazioni commerciali titolare amnol chimica biologica srl sede legale ed amministrativa concessionario amnol chimica biologica srl sede legale ed amministrativa categoria di appartenenza saponi per l'igiene intima confezioni til soluzione soluzione flacone 200 ml indicazioni til amarchio registrato a un detergente delicato a base di tensio attivi amfoteri per l'igiene intima quotidiana femminile e maschile grazie alle proprietà del mentolo unisce al piacere della pulizia anche un'intensa e prolungata azione rinfrescante modalità d'uso igiene intima esterna diluire 2 3 spruzzi in 3 4 litri di acqua tiepida sciacquare la parte prolungando le abluzioni per 3 4 minuti ed asciugarsi senza risciacquare bagno versare nella vasca 5 6 spruzzi prima di immergersi indifare il bagno come di consueto doccia versare su una spugna umida uno spruzzo alla volta e frizionare il corpo mentre ci si lava descrizione e caratteristiche dermatologicamente testato senza alcol parabeni avvertenze solo per uso esterno tenere fuori dalla portata dei bambini non utilizzare in zone cutanee vicino agli occhi con i quali deve essere evitato ogni contatto non applicare su cutelesa tenere lontano da fonti di calore la data di durata minima riferita al prodotto in confezione integra correttamente conservata allergeni non utilizzare in caso di ipersensibilità nota verso gli ingredienti componenti e ingredienti acqua water coca mido proprio il betaine polisorbate 20 peg 7 glicerico coate menthol xanthan gum menta peperita oil menta peperita peppermint oil lavandula angustifolia oil lavandula angustifolia lavender oil acrilates barra c10 30 alkyl acrilate cross polymer citric acid sodium benzoate potassium sorbate fenoxietanol c42 mila 90 blu1 c19 mila 140 fd e cil o 5 linalol fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo paratarmaco esaminato